Il mese di novembre mi danno due euro, così è il secondo anno che mi torturano in questa maniera. Il caso della signora Maria, la pensionata di 77 anni che ha ricevuto due euro di pensione e che deve mantenere i due figli adulti disoccupati, ha destato molto clamore. E ogni giorno mi buttano fuori senza darmi una spiegazione perché motivo mio tutti questi trattenuti con tutta questa roba. Per cercare di aiutare Maria oggi abbiamo chiesto un parere alla CISL. Senz'altro il CAF CISL è il patronato anche, così approfondiremo per capire se appunto si tratta semplicemente di una questione di tassazione, semplicemente si fa per dire, o di un errore o di una decortazione di pensione che riguarda più l'ente previdenziale. Prossimamente cercheremo quindi di fissare un appuntamento per aiutare la signora a districarsi tra la selva della burocrazia e delle tasse ed aiutarla a capire il perché di quei due euro di pensione. È chiaro che va fatto un approfondimento di cosa sia successo sia da parte dell'ente previdenziale e della situazione personale della signora, però rimane il fatto di un disagio vero della signora che si troverà per un mese a non avere sostanzialmente un reddito col quale vivere. Il segretario provinciale della CISL attende a rivedere la documentazione che riguarda il caso specifico per capire se la pensione da due euro che la signora ha ricevuto sia davvero quello che le spetta o se sia frutto di un errore. Ma si concede una considerazione generale su come spesso le tasse colpiscano duro le classi più deboli. Che ancora una volta in Italia ci sono 120 miliardi di evasione fiscale, e i pensionati che invece fino all'ultima lira, come i lavoratori dipendenti, debbano pagare le tasse, arrivando all'estremo che per pagare le tasse si rimane senza pensione.